Parliamo sempre delle stesse cose, comunque io ci ho parlato con Gallo e Gallo, anche se non sta ancora al massimo, però ha fatto oggi un gol che fa capire perché vale 100 milioni. Tutti possiamo sperare, solo che in questi ultimi 3-4 giorni non arriva nessuno con 100 milioni, perché a quel punto dipende dal giocatore, perciò possiamo solo sperare che non arriva nessuno. Poi naturalmente siamo tutti contenti se Gallo rimane, perché comunque lui è il nostro capitano, il nostro bomber, però la forza del Toro sta nel gruppo, è nel gruppo che si esalta ogni singolo giocatore. Questo vale per lui, come vale per gli Aic, come vale per tutti gli altri. In centrocampo siamo anche messi bene, siamo un po' corti in avanti, ma questo lo sappiamo e cercheremo adesso in questi prossimi 3 giorni di prendere un giocatore. Io il Burdizio lo conosco bene, abbiamo giocato anche insieme. Perciò vediamo, non lo so, vediamo, perché comunque abbiamo quattro difensori centrali, non facciamo le coppe, potrebbero bastare anche quelli, ma potremmo anche prendere un altro, non ti so dire. O comunque ti so dire, ma non ti voglio dire.